Oh, non riprende, gli stai sul cazzo. Sesto turno! Cava con Minchions Contro Renato con Dulovru Mono Rosso Cosa? Ma non è vero Ciak, azione Edo! Passi Che cazzo fai? Che cazzo fai? Eri fai l'azione Uno Gaggia Pronto Eh vabbè, ronti nei giochi No Due carte Paga uno, te la rimbalzi in mano? Se la fronti Se la fronti e poi fai change una cosa che Si che non giochi Fai change con l'amicizia Paro Non giochi l'amicizia Se avesse il tratto giusto Beh, beh, beh Sai do da uno Due A livello due Sai do da uno Allora Se tu hai solo un prismaggio Due Posso scegliere un tuo pezzo In fronte Ho detto due Sai do da uno Triggero due Se fare il suo danno posso Quattro Figliati sta pagno a testa zitto Vabbabbè C'è un po' che cazzo stai facciando Posso fare altro? Merde? Ah Quando è? Sì No, adesso è piccolo No No È quanto vuole che ci sia Sperate Se ci credo abbastanza è grossi Un ruolo intorno di Ciro fermato dal Sperate Ah, ha fatto il pezzo di merda Sì Quante zelle di giochi? Come glielo facciano i gare? No 3-3 Faccio questo? Che si è un piano Ma vuoi che Due solo migliori Ecco lo sto facendo In realtà Valer non funziona con i change Perché tu la sacchi di costo E poi entra comunque quella dopo No 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 Tipo se fai i bailers forza esiliato Forza esiliato non parla Ma quindi Tifone nega? Sì Tifone nega in alcune circostanze Ma perché Tifone nega? Tifone nega Tifone nega Compulsori su Cyber Drago Tifone nega le trappole continue Tifone nega le trappole continue Cavallo Compulsori su Cyber Drago Ma lì ti resti special Cyber Drago No no Io non ho volto SOUGA Uno mi ha fatto compulsori sulla pretesta Io non contento della minchiata E gli ho fatto Spendo un po' questo Oh Due coglioni Mi sono ripensato e ho detto Ma che cazzo mi ha fatto? Tu sai che hai fatto? Uno mi ha fatto compulsori sulla pretesta E io gli ho fatto Spendo un po' questo Lui gioca prista Si è liberando 3 Quello gli ha compulsori Lui fa questo Sì Che cazzo mi ha fatto Questa fa quella Questa fa quella Questa fa Questa fa quando attacca uno Spendo 3 Solo quando attacca uno Solo 6.000 Una Solo quando attacca uno Sì 6.000 Scherzone Un po' neanche da noi Scherzone Tu sei Mille e mezzo Vabbè se No lì che era peggio dai Ma potete rimbalzarmi con questo Questa era 500 brutta Non fa l'immagine Ok Tu sei Ce la compro Cazzo Ma c***o Ma c***o Ma c***o Ma c***o 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 No no Sto sfigando Hai giocato un animale Si Ok Due Basta Tutto Adesso Mi hai spiegato un po' no Che buono Il cast Due Tutto Pronto Facciamo le stoff C***o Abbraccio lo stoff Ah Prego che ero Tommascio lo stacca Due 2 per la missa 2 2 Parieto, sei al 2? no qua erano 7 erano 6 erano 6 si si, mi dai e con questo? e con questo? 3 3 3 ok allora che cosa? cavo e vinto bene, ci proviamo è una tappa perché adesso è voluto nel mondo una delle 4 bene bene cos'è la shimakase? bravo ranno a destra adesso dai 500 al livello da quelli danni a destra adesso dai 500 al livello da quelli danni a destra un po' di meno 1,2,3,4 1,2,3,4 1 2 2 eh, lei sai cosa fa? parata la svela da qua 500 al centrale, quando una carta va nel livello posso pagare 1 e girare 4 per andare a fare e 2 e 5 5 che cazzo fai? si continui ahahahahah ramax ah no se su un uomo tiri un ramax ti lasciare erano nato a destra erano nato a destra erano nato a destra poi hai presente la teoria di snake, no? finisce nel bordo allora run a destra come nel giorno perchè c'è l'ancora è l'ancora oh è l'ora eh è tutta favo questa tu che cazzo li sai ma pareversi il vetro non è piaciuta questa cosa che ho messo tre pezzi Renato zero tranquillo mi stiamo andando allo benissimo hai chiamato delle musaglie sto gioco si non è servita non è servita vedo no posso? quanto ne hai fuori? 4 eh oh è nato 4 5 stiamo fuori guarda che rotto va 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 dai finito non c'è l'effetto solo no ed è più di sotto si non hai paura di più di sotto 3 4 5 uno è lì l'altro è lì sotto 6 nei due di dentro buono il cazzo è sei pronto al 2 al 3 al 3 al 2 se lì va bene mi f***a adesso parli tutto di refresh mi stiamo mi hanno rubato la foto eh va bene no tutto storico ho parato tutto no mi ha mandato al 2 dal deluleo 06 stai cercando genzi bravo vabbè vabbè cioè io ho buttato via così e poi questa cosa è matta matta adesso ripescherò marcat 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 schianto pronte uno ma tutto ciò l'ho macinato ancora quello di usare vallalo come si sa che la stessa? ehm su un piccolo sì ehm ahm ahm grazie ci piace prendere un tanto così a random? sì ehm vabbè però non è ancora uscita quella ce ne sono dentro 3 ma stai scherzando? no no sono serissimo che figa c'ho dentro 3 regole che fa un combo climax in 4 carte di mazzo cazzo immaginati il mazzo così poi non è una perchè? intanto non la faccio la cazzo di come la faccio da 1 ma queste condizioni impossibili per me scarto climax al reggio se hai capito ho capito una cena in fila tra cazzo basta dai tirà eh lì hai graffiato se hai un triste cena va sono 3 allora lei in combo climax quando attacca posso farmi uno stop l'accesso questo due hanno il stesso effetto quando un climax va dalla mia waiting room il mio al livello per 2.500 fino a fine ecco questo da 500 avanti eh top 2 swap se trigo un gold posso fare con su la prima e posso come cresci? minchia ti arrivano i denti ora lo senti questo? ma senti la conza di me e sai che sei cagato da me è vero eh ti dai i flashati? sicuro? ora ti faccio 6 danni o uno lo prendi per forza no no vabbè guarda ora sono 4 ora sono 4 va bene adesso proia proia mi auguro il mio proia almeno le proia un lavoro c'è esatto pagona 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 1-2-2-2-2 per me ho fatto eh fermo posso dire un trattone di più? non dà mi ha fatto accanto perché io però infortunato ehh Gli altri che non giocano Delle 3, prima Sei l'ultimo Gallo 3 3 3 Su un cazzo Schianto 3 Faccio questo 3 Fai marker Questo Fai marker Perchè? 3 5 Ficca Edo però Che rotto in culo Mamma mia Ah Gedo è imbarazzante Si sveglia la mattina Ed è felice di esservi vivo Poi si rende conto che Edo Eri ancora felice Si Cazzo sono 8000 Edo Ma lo sai quante fighe Ho visto che anche te Si Qua vedere il mazzo Caccia col mazzo Non è Sto buttando Qua vedere il mazzo Certo Questa è quattro adesso 5-5 5-6 Ci sta Diventano Tutte due delle 11000 Si faccio però Però Si faccio backup su una L'altra diventa Quante sciagare giocherai? Quattro Quattro sciagare? Cioè quella che si faccia backup prende 5500 Mentre l'altra si faccia solo 2500 Eeeh la donna lupo Si Dai Io questa non lo dovrei fare Però lo faccio Non lo faccio perché è divertente Non lo sapete Oppure andiamo più ignoranti No? Passa un 65 qua Vabbè scappone Minchiai tu vuole mettere su un altro Qua Qua non lo faccio Ok Fetto Si Uno, due, tre Sparo BAM BAM Cosa? Spari uno? No non sparo due comunque Perché non hai clima Uno Due Guarda la prima sotto con la marca Smazza Refrescia Coglione Easy Easy Non è male No Quattro Quattro Brainstorm Vedi? Palo Guarda ora sei stronzo 5 Non cazzo Cioè lui con 5 ha parato 2 Tu con un 6 ha parato 0 Pure la carta fortissima 2 2 Cioè io si Quanti costo? Si Fai mancare Sto incimando qui con 6 5500 5500 adesso In questo momento un 5500 Tolla Il говero Beh Come è giusto che sia Cazzo Cazzo Quindi ora Musashi 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 Chissi Musashi 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 No allora Quanto sono le zozze? Si Due 12 e mezzo, 12 e mezzo 5 Quanto sono le zozze? Quando lei va reverse qualcuno lo mette sotto con l'altro Tanto non vanno reverse Bene, spengete Chia Non quale fruttazione E lei? Allora, il level 3 non ne ha E tu sei morto Porco era l'ultimo Sta cazzo di partita Sto cross Tanto lo peschi E tu sei morto Si scuolevi prima Pronto 3 3 3 3 3 Si ma porco dio Edo Porco dio Sei veramente imbarazzato Ce n'avevi dentro 2 3 Hai parato 4 attacca 2 2 Per 2 Per 2 Daio Eeeh Non ti cazzi Sperta C'è successo C'è successo 3 climax a parto di disagio C'è successo Edo Se soffravvive Mi fai un'altra cosa del genere Io ti sbaglio in faccia E non me ne fotte una sola E i danni da cupo no 3 3 Insulino 3 5 Quella E allora Quanti refreshi Hai pescato la climax? Tass 1 2 3 4 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 7 8 8 Si perchè tra l'altro Musashi ha macinato 2 climax Cioè 2 Musashi e 2 climax E i do Porco Dio Batti a un picca Mi spara 1 Si ma se ho 2 climax di mazzo e le mi le ho tutte due Spara 1 comunque E' che lo spara Fai come indochino a un picca Giuro che ci sto pensando seriamente da questa partita Dovrei avere un sacchetto 2 Dovrei avere un sacchetto 2 Un sacchetto Un sacchetto da cuore Solo anch'io sacchetto di plastica Vado all'una e sa comprare la corda Ci soffocchiavo io Ma non soffocco niente Quanto sei? Si 15 15 Me lo chiede anche Cioè lo sai me lo chiede Che pesa l'uomo Che pesa l'uomo Si proprio pesa l'uomo 2005 in experience da 6 Entrava prima con una tizza determinata nel flock Il turone qui entra Punish burn Se fare lo sparino ti spara mal Ma lui ha l'uomo E non è colpa mia te lo sicuro Chi è la colpa? E non mia Della vita Edo ti sta per arrivare in testa al tavolo Quanto sei? Sì Si te pare Sono nostro Soppa di 2.500 Va bene Perché? 11.000 per TK Quanto ha fatto lei? Di vostro le ha eccessi Ha passato 1.500 per prima sono 2.500 No Pass Compas E' il momento del Compas Com'è il Compas? Sparo uno Crop shot Si E tanto sono qui Non è staccato Non è staccato No Devi scattare 2 pezzi 2 pezzi però 2 pezzi però Eeeh Eeeh Cazzo Aaaaaa Cazzo vuol dire Sono 3 eh Ma qua davvero 3 Vai pure Rikki 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 E' salvato Rikki Manca mica spurato sufficiente Quindi se prendi sei morto male Si Pensa a te C'è quante tristeste Dov'è il Compas? Dov'è il Compas? Eeeh C'ho qui Eeeh Stai disgarando me Io lo sto giocando Se di reverso Pago uno Sparo quattro Eeeh Questa invece Quando entra cura Eeeh Quando attacca Pago uno Eeeh Prende il mille e cinque Eeeh Prende il mille e cinque Eeeh Eeeh Perché ci sono già altri danni letali Perché non ha niente in campo Sono 3 e 4 Eh si morto No Non è vero Guarda prima sotto una barca Spara tre singoli Spara tre singoli Prendi Prendi Bene Si morto Quattro Morto così Quattro e tre set No Questi erano altri Queste sono due stanze Questa è una Danno Danno Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Sì Ok Allora Ricky Si Cogliondo Edono la dovevi vincere Questa è rimbarazzante Giudo Edono Io non ho parole Io posso solo sperare Non è una cosa che si è una battuta Per esempio Col sangue Edono Col sangue No no Dalla carotide Dalla carotide Scrivi Get out Se il cazzo Mi rola la penna Se fai un altro spoiler Giuo che t'ammazzo Eeeh Tanto muo Ti ammazzati Ma si Mi chiami Giagini Io non hai visto Ci serve una penna Ce l'ho io Ce l'ho io Tu No no Strigliagli la mano Che ci spene Così ho preso scusami Mi sono totalmente distrutto Ok Basta io Tanto non lo fai i tre amici Di prima Ma non ti servono Che manco io con la XTB Guarda quel change Senza vergogna proprio Che cazzo fai? Che cazzo fai Che cazzo fai Che cazzo fai Quanto è questo? Un difficile No Un difficile Se dovesse avere un altro backup Sarebbe 14 15 Spero che non la convaglia Spero che non la convaglia Così abbiamo entrato in doppia nosa E poterlo pigli in culo È 0 Prego Droppo Per non far chi entrare in top Sei scemo Già fatto Ora sono nono Ora sono nono Ora 100% Io sono nono Mi uccido Io vado a casa se sono nono C'è l'osso nono C'è l'osso nono C'è l'osso nono No una sola Quante scuole hai due? Allora parte Sarà anche meglio Sarà anche meglio oserei dire E' come se qui sotto Si si no 1 Yes Anche oggi si ladra domani No Anche oggi si ladra oggi Dai Vabbè no 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 Sempre di più Parati prego Grazie signor Adesso possono succedere due cose Vinco o Berdo No Hai vinto che è il 2-2 che cazzo lo vedo Beh si Dai Cava credici Quante c'è il marzo? No tanti 20 20-30 60-70 E' buono Sono ancora in partita Si Oh pezzo 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 Il 1-1 prende tutto e muore Però fare standard combo climax della 3-2 piglia tutto si Se faccio doppia resta si con 4 di stock Che è quella da quata? Scusa Perché adesso la sa qua Fondamentalmente per quello Non lo Può essere più in salute possibile Quanto è scusa? Quanto è scusa? Adesso è il 10-30 Con il Denko insomma Beh se vuoi scaltare Yami per tenerla viva io Scusa di greccio E poi dopo c'è Yami Ah lei anche in difesa credo Sì 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 quando Quando reversa pago Quando metti carte nel livello Paghi uno Scarti uno Prendi più 1.5 fino a fine del turno su E se reversa sparò pure Quindi se lo fai adesso Ho blindstockato cold Tutti i testimoni Con io Non bastava in questa partita Devo già arrumare Cazzo qua Vieni un po' male Facci un po' Fatti difendere i primi però Non ce l'ho voglia E infatti qua lo parrucchiero No? Magari gli stronzi Le mano 3 climax sono 3 Di mano Di Sono 12.5 No eh 13 500 2 danni 3 scusami Eh già E due anti damage fuori eh Il problema che devi imparare è che 1 2 3 4 5 Allora se prendi questo No Però se prendi questo 4 Non va bene A me piace Devo uccidermi in qualche modo Eh Non devo far tripla yami Non devo morire no Allora attaccarti ma Se ha davvero 3 yami Vuoi pescare climax in qualche modo Eh eh Pesca due Beh se ha 2 yami E climax Posso accettarlo Perchè vivo Vivo 5 pezzi Secondo me Secondo me Emanua 2 5 3 climax di Vai Cava Ma gli hai fatto anche la Palisbar No Era già dato 1 prima Ma l'hai fatto 1 Ma l'hai fatto 1 No Ero 3 anche il turno prima Ah ok C'è se la traduttura Quanti climax hai vuoi? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 7 8 Eh ma magari era con te Magari era con te No Quello No Allora tecnicamente non ne ha di quelli Ti sa sopra che i 2 Si da 3 sono 5 Ah può pescare adesso il cazzo Si Se li peschi non lascio No no Non ci capiamo per noi No no Cava vedi di perdere Mi devi fare entrare in top 8 Perchè tu bastardo No no che no Guarda i 2 Sto già perdendo per i conti Non c'è bisogno Perché stai perdendo? Perchè al 2-2 quando giro al 1-5 No si godo Magari lo so cercare Sì ma ora lui ha il 3-4 No 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 Esatto prima aveva il 2-2 Tu ora sei il 3-4 Ah lui Eh allora E allora Perchè suggerisci? Magari adesso decidi di non farlo Ma quanti climax hai? Io no Anche tripla Dai dai 2 ai 7 climax No Ho i 2 o 6 Dai cavolo Pure tripla Cavolo ho un presentimento Massimo Credo abbia il climax No Dai cavolo Dai suggerimenti Non suggeri Merda Merda Ma suggerito arrivato di giocare la combo della 3-2 Ma Non ce l'ha non ce l'ha Non ce l'ha No non ce l'ha Il problema sta percato Il problema è se abbia scato Dark Nesplame con il testamento E' abbia stato tranquillo e non ce l'ha Uno l'ha cloccato quindi non è No ma io sono tranquillo Il suo ruolo ci arrivo Il problema è se abbia scato Dark Nesplame con il testamento Ma sei tranquillo cosa? Stai zitto sono tranquillissimo Qual'è quella che Questa prende 2.500 Questa spara 1 Si non muori mi sa Così ho chiaro Andre non c'è bisogno che mi fai perdere Cava credo a Belsino 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 C'è i vali che Ci direi al Chagg E quant'è? E' trovare esattamente Raichel Zoro 10-11 e mezzo Ah c'è qualcosa No Ma questo si deve prendere E se non ti dicevo la compri, se non hai bisogno te la riparo 40 euro Non ci pergo niente Non ci pergo niente Cava penso che mi sia morto matematico Fatti cazzi, vai fai Hai distrutto Ciro? No Quanto serve? Qualunico momento di debolezza? 50 euro 30 euro Ma cosa? 95 95 Se mi controllo switch adesso te lo do Quindi gioco switch Basta di più lo sai Switch è la console 95 euro E' la cliva Ma adesso devi farlo adesso Si ma do Se vuoi ti do monogatari Devo andare avanti a 4 Non ci sono possibilità Monogatari giallo blu Giallo blu vero Però figa la 13 C'è dai non posso